Ben trovati da Tg della mobilità, oggi strada le linee S e i collegamenti speciali per gli studenti, aperte anche ai pendolari. Le linee raggiungono termini dai principali snodi del trasporto pubblico, comprese Anagnina, Piazza Mancini, la stazione Tuscolana, Laurentina, Saxarubra e stazione Tiburtina. Le linee S sono in strada nei feriali tra le 7 e le 10 e tra le 13 e le 16 la S15 tra ciglia e piramide di pomeriggio è in funzione fino alle 19. Al sabato tutte le linee S sono in servizio solo nella fascia 7-10 e fino al 31 dicembre è possibile usufruire dei buoni viaggio Roma con uno sconto del 50% sulla corsa taxi. L'iniziativa è destinata ai residenti a Roma, alle donne dai 18 anni in su, agli uomini dai 18 ai 26 e agli over 60 e le persone con disabilità. È tutto per questa edizione. Grazie a tutti.